Allora amici di Caccio Pazzo, la Juventus grazie a un secondo tempo veramente strepitoso dove sembrava l'Atalanta, sembrava l'Atalanta del primo tempo cioè una squadra che non ti fa ragionare una squadra che ti pressa alto, che ti ruba palla e che si ributta in avanti con tanti effettivi e grazie a questo secondo tempo si porta a casa la Coppa Italia c'è sempre da aprire le virgolette insomma nel primo tempo c'era un rigore grosso come una casa che non è stato valutato con attenzione dove sembra che in queste situazioni il VAR non debba intervenire non si sa perché e quindi va a fare il paio con diciamo che l'Atalanta per quanto riguarda le sue due uniche partecipazioni alle finale di Coppa Italia è un po' in credito con la chiamiamola fortuna tra virgolette o con decisioni arbitrali un po' particolari diciamo particolari e un primo tempo dove comunque aveva legittimato il pareggio perché la Juventus nell'unica occasione che aveva prodotto in avanti tra l'altro una situazione di gioco particolare con dei rimpali non con una costruzione lineare Kurusevski aveva fatto un giro un bellissimo giro di sinistro un tocco di biliardo a gollini immobile e poi c'era stato il pareggio di Malinoski fino a lì diciamo poco presente però poi gli ha tirato insomma una bellissima azione tra l'altro che ha portato al pareggio di Malinoski con questa palla messa dietro nel secondo tempo la Juve è uscita fuori alla grande probabilmente l'Atalanta aveva speso tutto non lo so ma in ogni caso adesso la domanda che io vi pongo a voi è questa qui se la Juventus che chiaramente in questa stagione si è giudicata in questo momento due trofei cioè la Supercoppa e la Coppa Italia dovessi qualora raggiungere la qualificazione in Champions League e a sto punto la vedo complicata la vedo complicata perché probabilmente l'Atalanta se gliela vuole fa pagare dice Almina prego accomodatevi con Napoli che secondo me vince facile in casa col Verona non lo so come si mette comunque qualora dovesse raggiungere la qualificazione in Champions voi confermeresse Pirlo perché poi è normale che se il prossimo anno avviene un allenatore che ne so la butto lì un allegri della situazione e la Juventus magari fa un bel campionato ma fa un bel campionato perché contestualmente rifà magari il centrocampo comprando giocatori di espessore mette a posto magari la difesa e compra un attaccante al posto demorato e poi grazie al cazzo posso andare pure io probabilmente quindi Pirlo con questa rosa che comunque secondo me ha dei deficit importanti soprattutto al centrocampo cioè Rabiotto Rabiotto è veramente un calciatore che io benedico la madre di Rabiotto che ha fatto un cazzà Sabatini e così Sabatini l'ha mannato di affanculo madre e figlio perché altrimenti c'avevamo pure sto catenaccio dentro la squadra oltre a tutti gli altri che ci siamo presi nei tempi per cui ringrazio la madre di Rabiotto ma in ogni caso voglio dire non è sicuramente un giocatore da squadra di livello McKennie fa quello che può però è ben tankuro si ruba qualche pallone però Sama parla veramente di robetta robetta per cui voi la domanda è voi confermereste Pirlo e rispondere